Il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza fatta nel 2019 dal Sindaco di Teramo che impose una limitazione sui piatti, bicchieri e contenitori di plastica monouso. Il primo cittadino vietò infatti alle attività della ristorazione e gli esercenti commerciali di generi alimentari di utilizzare o distribuire a decorrere dal 1 giugno 2019 materiali monouso non biodegradabile e non compostabile, obbligando di contenere l'uso anche ai cittadini residenti e visitatori in città. Il ricorso è stato presentato dalla Federazione Gomma Plastica a Costola di Confindustria e l'impresa del settore ISAP Packaging, un annullamento che ora rischia di diventare un precedente importante in una materia al centro del dibattito internazionale. È una posizione che i giudici amministrativi stanno adottando, secondo un'interpretazione che non tiene in dovuta considerazione quello che è il principio della tutela ambientale nel bilanciamento con altri principi e diritti costituzionali. Noi, non solo a Teramo, ma tanti sindaci e tante amministrazioni continueranno ad andare in questa direzione, valuteremo insieme, a questo punto anche insieme ad altri sindaci e altri territori, un'azione comune che ci potrà consentire intanto di continuare la battaglia nel nome di principi che non solo sono costituzionalmente garantiti, ma anche dal punto di vista europeo ormai costituiscono un basilare punto di riferimento per lo sviluppo del territorio nazionale, europeo ma direi del pianeta. Ecco perché in questo momento in cui si parla tanto di transizione ecologica, in cui si parla tanto di valorizzazione dell'ambiente, io ritengo che sia giunto il tempo per cui le istituzioni congiuntamente lavorino affinché questo principio venga tutelato e garantito. Una decisione che ha comunque un precedente, questo potrebbe portare anche altre città, come giustamente diceva lei, alla stessa situazione? Sì, diciamo che è un orientamento che purtroppo al di là di questa pronuncia che può costituire un precedente, si sta consolidando a tutti i livelli di giustizia amministrativa, quindi non solo presso il Consiglio di Stato ma presso i vari tar. Ecco perché è importante assolutamente che ci si sieda intorno a un tavolo come sindaci, come territori coinvolgendo tutti i livelli istituzionali perché il rischio è proprio questo e ovviamente non ce lo possiamo permettere.